Benvenuti anche alla pagina sportiva, apriamo con qualche notizia soprattutto di basket, come già annunciato qualche giorno fa Gianluca Della Rosa resta al pisto da basket, il capitano bianco rosso pisto S-Doc classe 1996 vestirà la maglia della Giorgio Tesi Group anche nella prossima stagione. La sensazione di potermela giocare di nuovo nella massima serie è pazzesca, ammette il capitano bianco rosso, il primo anno mi ci sono un po' ritrovato in serie A ed ho fatto il mio meglio, questa invece la sento anche un po' mia avendola conquistata con un gruppo fantastico e anche se passano i giorni le emozioni per il traguardo raggiunto sono sempre grandissime per questo ci tengo a ringraziare la società Marco Sambugaro e Nicola Brienza che mi concedono questa opportunità. A livello di competitività mi aspetto un campionato che non avrà nulla a che fare con la 2, prosegue Della Rosa. Sarà uno step molto alto perché anche rispetto a solo tre anni fa il livello si è alzato ulteriormente con la presenza di giocatori che si sono affermati sia nel panorama europeo e qualcuno anche a livello mondiale. Sarà veramente bellissimo affrontarle e giocarci contro ma allo stesso tempo sarà ancora più da stimolo per fare meglio e cercare di tenere alta la testa e tenere testa alle varie squadre. Parliamo ancora di basket e naturalmente di Giorgio Tesigruppe, parliamo di campagna abbonamenti che è partita molto bene per la prossima stagione del campionato di Serie A. Nel primo giorno tanti tifosi sono arrivati al Palacarara per sottoscrivere l'abbonamento, entusiasmo ed ottimismo quello che si è respirato tra le persone. Il primo abbonato per la stagione 2023-2024 è stato Yuri del Pasqua, presente al botteghino già un'ora prima dell'apertura. E passiamo alla pallacanestro Montecatini, Gemma Marcello Billeri, 72enne, una vita passata a insegnare pallacanestro ai giovani e non solo. Vecchia conoscenza tra le altre del mondo della palla spicchi termale pistoese, è il nuovo responsabile del settore giovanile della pallacanestro Montecatini. Sarà lui insieme a Massimo Angelucci e grazie all'aiuto dei dirigenti Gabriele Saviole e Paolo Albelli e alla collaborazione con la scuola Basket Auges a lanciare in orbita il progetto Gemma Giovani. Un'idea fortemente caldeggiata dal direttore sportivo Guidomini e dal patrono Alessandro Lulli sull'argomento. Stiamo preparando anche un servizio che proporremo nei prossimi giorni. Passiamo anche alla serie C Gold. Francesco Nesi lascia l'Endi Asfalti Agliana, una scelta arrivata dopo due anni di cammino comune. Nesi è arrivato nel 2021 esterno classe 1990, è stato il lottatore per eccellenza della pallacanestro Agliana. Sono stati due anni fantastici, Agliana è un ambiente super positivo dove si può lavorare in serenità, ha detto Nesi. Ho conosciuto persone che mi sono rimaste nel cuore, uno tra tutti il presidente Simone Caramelli. Vivere il basket come si viva ad Agliana è stata un'esperienza bellissima che mi porterò per sempre nel cuore. E andiamo in casa della Pistoiese, giorni importanti per capire le prossime strategie del club societario e di campo in vista della prossima stagione di Serie D. Poche ore di attesa, poi sapremo quello che succede in casa Pistoiese in vista della prossima stagione che vedrà ancora gli arancioni disputare il campionato di Serie D. Dopo il passaggio di proprietà del club, poco altro è uscito dalla stanza dei bottoni, ma proprio nella conferenza stampa in programma per lunedì sarà svelato il nuovo organigramma e ci sarà da capire anche lo stato di alcune situazioni ancora dubbiosi. Vedi Stadio Melani, il comune di Pistoia ha rilasciato il nulla osta solo per permettere l'iscrizione al campionato, dove è necessario presentare la documentazione relativa all'impianto. La concessione, come ha specificato l'amministrazione comunale, è subordinata all'esito positivo del procedimento di concessione ed uso degli impianti sportivi, tuttora in corso, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento. E negli ultimi giorni si è anche palesato un interessamento da parte di imprenditori fiorentini alla società, manifestazione di interesse che è stata però rimandata al mittente proprio dalla stessa Pistoiese, che sembrerebbe aver dichiarato che il pacchetto di maggioranza della società non è in vendita. Tutto questo mentre sul piano, prettamente di campo, ha parlato il confermato direttore sportivo Gianni Rosati, proprio ai nostri microfoni, sottolineando come si stia lavorando per la costruzione della squadra. Ha ribadito che mister Luigi Consoni sarà ancora l'allenatore della Pistoiese e sarebbe confermato anche tutto lo staff tecnico, anche se anche qui siamo in attesa di ufficialità. Sarà una Pistoiese rinnovata, ha detto Rosati, più giovani, quindi alcuni veterani della scorsa stagione sembrerebbero con la valigia in mano, ma il direttore si è detto pronto anche a compiere qualche colpo di mercato che potrebbe entusiasmare la piazza. Una cosa è certa, la Pistoiese riproverà a vincere questo campionato. Chiudiamo con notizia di ciclismo. Bel piazzamento di Alina Bogdan, 21 anni portacolore della Pro Cycling Team, che a recente tour di Belgrado ha ottenuto un bel terzo posto nella seconda frazione e una onorevole sedicesima piazza in classifica generale. Alina Bogdan, giovane e promettente prospetto ucraino, ha disputato la corsa a tappe serba con la maglia della sua nazionale. A coronamento di questo bel periodo è arrivato anche il quinto posto assoluto, ottenuto nella gara a cronometro dei campionati nazionali di Ucraina. Da metà luglio in poi la Pro Cycling Team parteciperà ad alcune gare nel nord Italia in preparazione al Giro Internazionale della Toscana dal 24 al 27 giugno, diventato il prossimo obiettivo stagionale. Chiudiamo con questa notizia il nostro TG Sportivo. Rimanete con noi, adesso le ultimissime del telegiornale. Buona serata.